La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Per le mie nuove inchieste ho intrapreso un viaggio tra gli oppositori dell'imperialismo, del globalismo, del neoliberismo, tra imbarghi, colpi di Stato, rivoluzioni e tentativi di riscattare i popoli e mi sono imbattuto per la prima volta nel Diego Rivoluzionario, una identità del giocatore Diego Armando Maradona che non conoscevo ed ho capito che i suoi nemici erano proprio i protagonisti delle mie precedenti inchieste, come la Matrix europea, ma anche delle inchieste a cui stavo lavorando più recentemente, come il cartello finanziario. Non potevo credere ai miei occhi ogni qual volta il nome di Maradona emergeva da file riservati perché finito nel mirino del Dipartimento di Stato USA o quando leggevo le sue gesta politiche narrate nei documenti dei grandi leader rivoluzionari del XXI secolo. Chi poteva immaginarlo? Diego Maradona da sempre, sotto la lente dei media per qualsiasi gesto compisse in pubblico o in privato, addirittura costretto a sparare con una pistola a piombini contro i giornalisti per avere un attimo di privacy, aveva realizzato decine di azioni molto forti in favore della causa rivoluzionaria e antimperialista e nessuno ce l'aveva debitamente raccontate. Ecco perché ho sentito l'irrefrenabile bisogno ed il dovere di rendere giustizia alle azioni del Diego rivoluzionario. Da napoletano come lui sappiamo che Diego ho ottenuto la cittadinanza onoraria della mia città e da antimperialista convinto non ho voluto esimermi da raccontare nei dettagli queste gesta eclatanti del rivoluzionario dai capelli ricci. Questa mia nuova inchiesta quindi racconta scenari che hanno in tutti i modi cercato di tenere nascosti. È un racconto rischioso, me ne rendo conto, ma questa figura di Diego è emblematica della censura che subiscono certi temi, degli ostacoli che trovano coloro che provano ad opporsi all'imperialismo, al neoliberismo, al potere delle oligarchie, al pensiero unico, all'agenda del nuovo ordine mondiale. In questa inchiesta apparentemente sto rendendo giustizia a Maradona, ma la realtà è che Diego Maradona sta rendendo giustizia alla causa di tutti quelli che sono vittime di censure continue. Grazie a Diego sto dimostrando al mondo che ci sono cose che i media non ci diranno mai, ci sono versioni dei fatti che sui giornali non leggeremo mai, immagini che in tv non vedremo mai, perché esiste un pensiero unico dominante e tutto ciò che lo mette in discussione deve essere archiviato, derubricato, oscurato, osteggiato. E la vita del Diego Rivoluzionario è l'esempio più efficace che io potessi trovare per far toccare con mano la censura, che personaggi molto meno noti di Maradona sulle medesime battaglie devono subire ogni giorno. Mi darete atto infatti che se sono riusciti a nascondere le verità di un uomo che viveva in una sorta di grande fratello continuamente inseguito e circondato dalle telecamere, allora possono riuscirci con chiunque. Quelle telecamere e quelle immagini infatti sono evaporate quando avrebbero dovuto raccontare qualcosa che i burattinai dei media non volevano che venissero raccontati. Bene, ho provato a farlo io con l'inchiesta Il Diego Rivoluzionario. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it. Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.